Anticipazioni Endless Love. Nelle prossime puntate, preparatevi a lasciarvi travolgere da un vortice di emozioni e colpi di scena nelle puntate di giovedì, 9 e venerdì 10 maggio della vostra amata soap opera Endless Love. Nihan, con il cuore in tumulto, decide di rivelare finalmente a Kemal l'oscura verità sul suo matrimonio con Emir. Una confessione tanto attesa quanto dolorosa, che porta a galla un segreto sconcertante. Ma non sarà l'unico segreto che verrà a galla. Ora iniziamo con la trama. Guardate fino alla fine il video perché ci sarà una sorpresa. Nihan chiama Kemal per rassicurarlo, sussurrandogli con voce tremante che è finalmente uscita dalla casa di Galip. Durante la telefonata, svela di essersi presa la colpa del furto delle pendrive per proteggerlo dai sospetti degli implacabili Cozkoglu. Mentre le sue parole risuonano nell'aria, le loro strade si incrociano quasi fatalmente in un incontro mancato. Scendono entrambi dalle auto, ancora scossi dall'intensità della chiamata e dalle emozioni che traboccano, guardandosi negli occhi con un misto di preoccupazione e desiderio. Nihan, con dolcezza e premura, suggerisce a Kemal un metodo per curare la sua ferita, ma lui, con uno sguardo intriso di malinconia, risponde che ha già curato ferite peggiori, riferendosi a quelle che ha subito nel cuore. Un momento carico di tensione emotiva, che rende evidente il legame indissolubile tra loro. Alla fine, con un sospiro pesante, tornano entrambi in auto. Mentre il cuore di Kemal è ancora intumulto, una chiamata urgente da Zehir lo scuote. L'aggressore che hanno catturato non vuole parlare. Kemal, con il suo solito sangue freddo, gli ordina di aspettare ancora un po'. Ma la mattina seguente, mentre Zehir sembra dormire profondamente, l'aggressore riesce a fuggire. Tuttavia, ciò che l'uomo non sa è che tutto fa parte di un piano orchestrato nei minimi dettagli. Zehir sta solo fingendo di dormire, mentre Kemal, con occhi di falco, è pronto a seguirlo da vicino. Nel cuore dell'azione, Emir e Tufan discutono animatamente sull'enigmatica figura di Leila. Il suo nome aleggia nell'aria come un segreto proibito, e il motivo per cui nessuno ne conosce l'esistenza getta un'ombra sinistra su tutto. Emir, con lo sguardo feroce e i nervi a fior di pelle, ordina al suo fedele collaboratore Tufan di proseguire con le indagini, cercando ogni traccia che possa rivelare il mistero nascosto dietro il volto di Leila. Nel frattempo, Nihan è in preda all'angoscia. Ogni fibra del suo essere è concentrata nel trovare Kemal. I suoi passi sono rapidi e il cuore le batte all'impazzata mentre raggiunge la casa dell'ex fidanzato. Ma proprio nel momento in cui spera di trovarlo lì, appare Asu, la sua più temibile rivale. Con un sorriso tagliente, Asu dichiara con fredda sicurezza che Kemal non è in casa. Nihan sente il sangue gelarsi nelle vene. Preoccupata per la ferita di Kemal, si affretta a chiamarlo. Ma dall'altra parte del telefono solo un vuoto silenzio. Asu lo contatta, sperando che almeno a lei Kemal risponda. La tensione si taglia col col telo quando, finalmente, Kemal risponde alla chiamata di Asu, ma la sua voce è fredda e distante. Le chiede di richiamarlo più tardi, perché è molto occupato. Tuttavia, Asu, sfruttando l'opportunità, finge di essere in una conversazione intima con Kemal, rivolgendogli parole affettuose. Le sue parole sono come spine per Nihan, che se ne va con il cuore infranto, incapace di sopportare ulteriormente la scena. Mentre il gelo scende sul giardino di Leila, le ombre si allungano tra gli alberi creando un'atmosfera sinistra. In quel momento Emir appare all'improvviso, come un predatore che ha fiutato la sua preda. La sua presenza è intrisa di un'intenzione oscura, mentre si avvicina a Leila, deciso a svelare ogni segreto del suo passato. Leila, colta di sorpresa, cerca di respingerlo con fermezza, ma la determinazione di Emir è implacabile. «Non dovresti trattarmi così», le sussurra con tono freddo, considerando che siamo quasi parenti. Il suo sguardo è penetrante, carico di minaccia, mentre accenna di conoscere il suo segreto. Ma Leila, con una calma apparente, gli ordina di andarsene, senza concedergli una sola spiegazione sulla sua esistenza. La calma apparente di Emir è un sottile velo che nasconde un'anima turbolenta. Con voce misurata ma tagliente come un rasoio, minaccia di rivelare il segreto di Leila ai giornali se lei non gli darà le risposte che cerca. Tuttavia, nonostante la pressione, Leila lo ignora e cerca di rientrare in casa. Emir ammira il suo carattere forte. «Non sei come Vildan», sussurra, il sorriso tagliente dipinto sulle labbra. «Sei più simile a me di quanto tu creda. Potremmo andare d'accordo?». Con un sorriso soddisfatto, Emir si volta e si allontana nel buco, mentre Leila, scossa, torna in casa e lo osserva dalla finestra, il cuore colmo di turbamento. Il suo primo pensiero è Kemal. Afferrando il telefono con mani tremanti, lo chiama immediatamente per informarlo dell'incursione di Emir. «È stato qui», dice Leila, la voce rotta dall'ansia. «Ha scoperto chi sono e mi ha minacciata di far trapelare tutto ai giornali». Kemal, dall'altra parte della linea, ascolta con attenzione. La sua risposta è decisa. Emir non parla mai a vuoto. Devi parlare subito con Nian prima che lui possa usarla per ferirla. Nel silenzio della sala palestra, il ritmo costante del tapis roulant riempiono l'aria. Ozan, concentrato sui suoi esercizi, viene raggiunta da sua sorella Nian. Il suo viso è serio, un mix di preoccupazione e determinazione. «Ti sento distante ultimamente», confida Nian, scrutando negli occhi di suo fratello gemello. Ozan, inizialmente sorpreso, nega con veemenza. «Non è vero», risponde, mantenendo il ritmo sul tapis roulant. Ma Nian, intuendo una verità più profonda, insiste «Siamo gemelli, Ozan. Io certe cose le sento. Il silenzio che segue è carico di tensione, fino a quando Nian sussurra con sospetto. È stato mio marito a metterci l'uno contro l'altro, vero?». Queste parole colpiscono Ozan come un fulmine. Senza una parola, scende dal tapis roulant e se ne va, lasciando Nian con un senso di inquietudine nel cuore. Sa che qualcosa non va e sospetta che suo marito, Emir, abbia in qualche modo manipolato il loro rapporto. Proprio in quel momento, il telefono di Nian squilla, interrompendo il suo lusso di pensieri. All'altro capo c'è Leila, la cui voce è un miscuglio di urgenza e preoccupazione. «Dobbiamo vederci assolutamente durante la giornata», dice, senza perdere un attimo. «Kemal sta bene, ma devo parlarti di qualcosa di importante che ti riguarda». Il cuore di Nian sussulta, ma risponde con voce ferma. «Verrò da te nel primo pomeriggio. Ora Ozan è giù di morale e voglio stare un po' con lui». Mentre la tensione cresce nelle vite di tutti, Kemal è un uomo con una missione. Seduto in macchina, scruta attentamente l'edificio dove poco prima è entrato l'aggressore. La determinazione brilla nei suoi occhi quando Zehir arriva, deciso a non lasciarlo affrontare il pericolo da solo. Senza bisogno di parole, i due si scambiano uno sguardo di intesa e si dirigono verso l'entrata, pronti a tutto. L'aria all'interno dell'edificio è pesante, impregnata di minaccia. Kemal non perde un attimo, colpisce subito uno degli uomini con un pugno deciso, mentre Zehir si occupa dell'altro. Il suono dei colpi echeggia nei corridoi, ma dietro la porta si nasconde un ulteriore pericolo. Un terzo uomo, armato di coltello, attende al varco. Ma Kemal, sempre un passo avanti, intuisce la sua presenza e riesce a disarmarlo con un rapido movimento. In pochi istanti tutti e tre gli uomini sono a terra, sofferenti e incapaci di reagire. Nel frattempo, in un altro angolo della città, Nihon è ancora scossa dal comportamento di Ozan. Decide di andare a trovarlo nella sua stanza, dove lo trova impegnato a scegliere un gioco. Ma il distacco di Ozan è evidente, come un muro invisibile tra loro. Nihon si avvicina, cercando di rompere la barriera. Mi stai punendo a causa di Kemal? Ozan, visibilmente irritato, risponde con tono tagliente. Conosco il mio posto. Non potrei mai paragonarmi al tuo primo amore. Queste parole colpiscono Nihon come un colpo dritto al cuore. Sei ridicolo, esclama prima di prendere il disco tra le mani e scappare via dalla stanza. La tensione si addensa come una nube oscura nella dimora dei sezzin, mentre Emir torna a casa. Determinato e inesorabile. Con un cenno freddo e autoritario, ordina che nessuno lo disturbi mentre parla con i suoi suoceri, Vildan e Onder. L'atmosfera è carica di aspettative e paura, mentre lui si prepara a sferrare il colpo. «Voglio che parliamo senza interruzioni», inizia Emir, fissando Vildan e Onder con occhi freddi. «La felicità del vostro matrimonio si basa su una vita senza parenti», aggiunge, con un sorriso tagliente che suggerisce la sua conoscenza di un oscuro segreto. Poi il colpo diretto. «Vildan, hai una sorella?» L'accusa è come una scossa elettrica. I volti di Vildan e Onder si contraggono, mentre Emir li accusa apertamente di avergli nascosto la verità. «Siete dei bugiardi», l'incalza. Onder, incapace di trattenersi, chiede come Emir ne sia venuto a conoscenza. «Con una calma glaciale», Emir risponde. «Emir, coscoglus, ha sempre tutto». Proprio in quel momento la porta si apre e Nihan e Ozan entrano, ignari del segreto che aleggia nell'aria. Sentono la domanda di Emir risuonare nella stanza. «Vildan, hai una sorella?» Il volto di Vildan si tinge di pallore mentre si volta verso i suoi figli, incapace di nascondere la sua preoccupazione. Emir nota immediatamente la loro presenza e sfrutta l'occasione per affondare ulteriormente la lama. Alla supplica disperata di Vildan di non dire nulla ai ragazzi, lui risponde con un sorriso velenoso. «Puoi dirlo tu stessa?». L'intera stanza trattiene il respiro. Nihan e Ozan si scambiano sguardi confusi cercando una risposta negli occhi dei loro genitori. Cosa nasconde Vildan? E come userà Emir questo segreto per manipolare ancora una volta la famiglia? L'atmosfera nella stanza è gelida, tesa. Nihan, accompagnata da Ozan, si avvicina lentamente alla madre. Lo sguardo confuso e incerto di lei si riflette in quello dei, suoi figli, mentre la domanda si fa strada tra le labbra di Nihan. «Mamma, hai una sorella?». Vildan annuisce con un cenno della testa, incapace di sostenere lo sguardo dei suoi figli. Ma prima che possa aggiungere una parola, Emir si avvicina con il suo sorriso velenoso. «Si tratta di Leila!», dice con un tono di soddisfazione, «la migliore amica di Kemal». Lo shock dipinge i volti di Nihan e Ozan, che rimangono increduli e senza parole. I loro mondi, costruiti su fondamenta apparentemente solide, iniziano a sgretolarsi. Onder, vedendo il gioco crudele che sta portando avanti il genero, si avvicina minacciosamente. «Se questa storia verrà fuori, avverte, dirò la verità su tua madre!». Per un attimo, il volto di Emir cambia espressione. La minaccia tocca un nervo scoperto, ma la tensione viene interrotta da una chiamata sul suo telefono. È Zeynep. Senza voltarsi indietro, Emir si alza e lascia la stanza, lanciando un ultimo consiglio tagliente. «Cercate di non litigare troppo!». Nella stanza rimane un silenzio teso, interrotto solo dal respiro agitato di Nihan. Si volta lentamente verso la madre e le chiede, con un filo di voce, «Leila è davvero tua sorella?». Con un altro cenno della testa, Vildan conferma. La rivelazione si abbatte su Nihan come un fulmine. «Perché me l'hai tenuto nascosto?», domanda, le lacrime già nei suoi occhi. E in quel momento, un ricordo le attraversa la mente, quella volta in cui sua madre voleva parlarle in camera da letto, ma suo padre la interruppe, portandola via. Nessuno risponde alla sua domanda. La stanza rimane in silenzio e le uniche voci che Nihan sente sono quelle dei suoi pensieri, che si affollano e si accavallano tra incredulità e tradimento. «Mi avete fatto credere di vivere in una famiglia che non esisteva», afferma con le lacrime che le rigano il viso. «Mi avete mentito, avete nascosto dei segreti nella mia stessa famiglia». Ma tutto ciò che ottiene è silenzio. La verità non detta pesa come un macigno, e il dolore della scoperta la spinge oltre il limite. Con il cuore spezzato, si volta e si dirige verso la porta, dichiarando con amarezza «Questo segreto è la vostra vergogna». Mentre Nihan esce, Vildan, Onder e Ozan rimangono lì, intrappolati nelle loro menzogne. Nel freddo corridoio del commissariato, Kemal e Zehir conducono i due aggressori direttamente all'ufficio del commissario. L'aria è carica di tensione, mentre Kemal informa a un agente che quegli uomini hanno qualcosa di importante da confessare. Una volta dentro, Zehir rivela con tono risoluto «Sono loro i due uomini che lo hanno pugnalato». Gli aggressori, visibilmente nervosi, abbassano lo sguardo, consapevoli che le loro menzogne non possono più nasconderli dalla giustizia che sta per colpirli. Il commissario ascolta attentamente ogni dettaglio, mentre Kemal e Zehir restano lì, con una determinazione incrollabile nei loro occhi. Nel frattempo, Nihan, con il cuore spezzato e visibilmente scossa, si reca alla casa di Leila. La porta si apre lentamente, e Leila, intuendo subito che qualcosa non va, la fa entrare con un abbraccio. Nihan si guarda intorno, come se cercasse un segno che possa spiegare tutto ciò che ha scoperto. Sto cercando una traccia, sussurra, quella che non ho mai visto in tutti questi anni. Leila capisce immediatamente che la verità è stata finalmente svelata. Quando Nihan le chiede direttamente se è davvero sua zia, Leila la guarda negli occhi, ma non riesce a rispondere. Il silenzio che segue è assordante. Alla fine Nihan rompe la tensione. Tu eri diversa, speciale, e invece quando si tratta di mentire sei come tutti gli altri. Leila, ferita dalle parole taglienti, si fa forza e risponde con voce tremante. L'ho scoperto il primo giorno che ti ho vista. Ti sentivo così vicina, così familiare, ma la conferma l'ho avuta solo quando ho saputo il tuo cognome. Le indica il divano e le chiede di accomodarsi. Nihan, con gli occhi ancora pieni di lacrime, si siede e chiede «Cosa è successo tra te e mia madre?». Leila sospira profondamente. La sua voce è un sussurro carico di dolore, mentre confessa «Ero fidanzata con tuo padre, Onder. Dovevamo sposarci, ma proprio il giorno del matrimonio ho scoperto che mia sorella Vildan era incinta di te e Ozan». Il peso di quelle parole grava sul cuore di Nihan come un macigno. Le sue mani tremano mentre cerca di dare un senso a quella rivelazione sconvolgente. Leila con gli occhi lucidi aggiunge «Questo è il motivo per cui non ho potuto dirti nulla». Il silenzio cala nella stanza, mentre Nihan cerca di elaborare la verità. La fiducia che aveva nei suoi genitori è stata completamente distrutta. Si alza lentamente e guarda Leila, con gli occhi ancora pieni di incredulità. «Mi hai mentito per tutti questi anni», sussurra con una voce spezzata. «E ora cosa faccio con questa verità». Leila non ha risposta, la sua unica speranza è che Nihan possa trovare la forza di perdonare, ma in questo momento il dolore è troppo grande. Zainab attende nervosamente l'arrivo di Emir. Ogni minuto che passa sembra un'eternità, fino a quando finalmente vede la sua figura apparire all'ingresso. Il suo viso si illumina per un istante, ma il sorriso svanisce quando si accorge della freddezza nello sguardo di lui. «Perché mi stai evitando?» domanda con la voce tremante per l'ansia. «Non rispondi alle mie chiamate e ai miei messaggi». Emir si siede lentamente, mantenendo un'espressione impassibile. «Ho promesso a mia moglie che la mia relazione con te non sarebbe continuata», dice con calma glaciale, fissando Zainab negli occhi. «E l'unico ostacolo qui sei tu». Il sangue di Zainab si ghiaccia nelle vene, ma non è pronta a lasciarlo andare. Ho parlato con Nihan dei miei sentimenti per te, mente cercando di mantenere una sicurezza che non sente. Anche se non li ha accettati, so che potrei convincerla con il tempo. Emir la guarda con un sorriso enigmatico. «Nihan è troppo ossessionata da me», afferma, giocando con le emozioni di Zainab. Poi, con voce tagliente, aggiunge «Il problema sei tu, Zainab. Sei immatura e non riesci a vedere la realtà della situazione». Le parole di Emir colpiscono Zainab come un pugno nello stomaco. «Sono sposato», continua. «E poi c'è la tua famiglia e Kemal. Quanto sei disposta a fare per il nostro amore?» Zainab esita, il cuore combattuto tra l'amore che prova per Emir e la consapevolezza della realtà. «Il suo silenzio è sufficiente per Emir che si alza per andarsene. Il tuo silenzio è la tua risposta», dice con tono finale. «Ma Zainab, presa dal panico, lo afferra per il braccio e lo costringe a voltarsi. Ti amo», confessa, «le lacrime che le rigano il viso. Farei qualsiasi cosa per te. Qualsiasi cosa». Un sorriso soddisfatto si disegna sul volto di Emir. La abbraccia con apparente affetto, sapendo di averla in pugno. «Bene», sussurra, «allora dimostralo». E così, con la sua abile manipolazione, Emir fa credere a Zainab che lei sia l'unico vero ostacolo alla loro relazione. La tiene in un abbraccio stretto, ma i suoi occhi tradiscono una freddezza calcolatrice. L'atmosfera è densa di emozioni nella casa di Leila, mentre la verità si svela tra lei e Nihan. Leila prende delicatamente le mani della nipote tra le sue e la guarda negli occhi con comprensione e tristezza. «Capisco se sei arrabbiata», sussurra Leila alla voce un po' spezzata. «Avrei voluto parlarti prima, ma non ho potuto». Nihan, incapace di nascondere il turbamento, si alza e si allontana, quasi volendo fuggire dalla realtà. «È come se il mondo mi fosse crollato addosso», risponde, gli occhi lucidi. «Non so più a chi credere». Si dirige verso la porta, ma prima che possa andarsene, Leila la chiama dolcemente. «Nihan aspetta». Nihan si ferma e si volta verso Leila, lo sguardo ancora pieno di dolore e confusione. Leila fa un respiro profondo e si avvicina a lei, le prende le mani e le dice con voce ferma ma gentile. «Nonostante abbia provato a respingerti, non ci sono riuscita». Nihan resta in silenzio, ascoltando attentamente le parole della zia. «Non sono stata capace di farti da zia», continua Leila, «ma ho cercato di esserti amica, tenendoti lontana dal passato». Nihan la guarda intensamente, il volto combattuto tra rabbia e comprensione. «Perché non me lo hai detto prima», chiede con un filo di voce. Leila sospira. «Avrei voluto dirtelo, davvero, ma non potevo. Ero legata da promesse e segreti, ma ti voglio bene, Nihan». Nihan è ancora scossa. Leila la guarda con affetto e dolore. «Lo so, ma ti prego non lasciare che questo segreto distrugga ciò che hai con Kemal. Parlagli, apri il tuo cuore. Non commettere lo stesso errore che ho fatto io». Le parole di Leila risuonano profondamente nella mente di Nihan, che annuisce lentamente. «Ci proverò». Mentre la tensione si accumula come una tempesta imminente, Emir ritorna a casa, avvolto nella sua consueta aura di autorità e arroganza. Ma la vista di una macchina della polizia davanti al cancello della villa lo mette immediatamente in allerta. Ozan lo chiama da lontano e con un tono di preoccupazione mista e ironia, Emir si domanda cosa abbia combinato di nuovo suo cognato. Scende dall'auto e si avvicina al cancello, trovando parte della sua famiglia riunita davanti alla villa. Un agente di polizia gli si avvicina con passo deciso e gli ordina di seguirlo in commissariato senza fornire spiegazioni. In quel momento Kemal arriva e si ferma a osservare la scena, con un sorriso soddisfatto sulle labbra. Emir, visibilmente infuriato, si avvicina a lui, lanciando un'occhiata fulminante. «Sei stato tu a chiamare la polizia?» Kemal lo guarda negli occhi e risponde senza giri di parole. «Non sono un codardo che fa pugnalare qualcuno in piena notte. Io ci metto la faccia». Le parole di Kemal accendono un fuoco negli occhi di Emir. «Te la farò pagare!» minaccia, stringendo i pugni. Emir, furioso, viene costretto a salire nell'auto della polizia, mentre Vildan promette immediatamente di chiamare i loro avvocati. La tensione tra i membri della famiglia è palpabile. Ozan, confuso, si avvicina a Vildan e chiede «è stato Kemal a denunciare Emir?». Vildan, determinata, scuote la testa. Questa volta Emir non la passerà liscia. Ma Under, con un'espressione scettica replica, non ne sarei così sicuro. Nel frattempo, Kemal rimane lì a osservare la scena, soddisfatto ma consapevole che la battaglia contro Emir è tutt'altro che finita. Quando Kemal torna a casa, trova Nihan seduta sul divano. Il suo volto è un mosaico di emozioni spezzate, mentre accarezza il suo cane. Gli occhi velati dalle lacrime tradiscono una tempesta interiore. Quando vede Kemal entrare, gli si avvicina con passo esitante. «Lo sapevi?» chiede con la voce incrinata dal dolore. Kemal capisce subito a cosa si riferisce. Leila mormora con un sospiro. Nihan gli chiede perché non gliel'ha detto. «Era un segreto di Leila», risponde Kemal cercando le parole giuste. «Non potevo tradirla, non era giusto». La frustrazione di Nihan si riversa in un pianto disperato. «Sono esausta, Kemal, esausta di bugie, segreti e inganni, anche dalla mia stessa famiglia». Lui la abbraccia, sentendo il peso della sua sofferenza. Le bacia dolcemente la testa, cercando di rassicurarla, ma poi, all'improvviso, entrambi si accorgono di quanto sono vicini. Si staccano guardandosi negli occhi per un lungo momento. C'è qualcosa di non detto che danza tra loro, un'attrazione pericolosa che li avvolge. Nihan si asciuga le lacrime e, prendendogli la mano, lo implora di seguirla. «Dove andiamo?» chiede Kemal, ma lei non risponde. «Attraversano il giardino, che non arrivano a un vecchio pozzo, incorniciato dalle fronde di un piccolo bosco». Con la voce tremante, Nihan racconta a Kemal di quando era bambina e scoprì il boschetto attraverso il giardino. «Un giorno arrivai qui con la mia bambola», inizia, «ma quando mi sporsi sul pozzo, la voce di mia madre mi spaventò e la bambola cadde giù». Si ferma, fissando l'oscurità del pozzo come se cercasse di rivedere quel momento. Da allora, ogni volta che ho un segreto, vengo qui e lo confido alla mia bambola nel pozzo. Kemal la ascolta in silenzio, mentre lei continua. «Tranne uno». La sua voce si fa ancora più flebile, come un sussurro. «Un segreto che non ho mai confessato a nessuno». Le loro mani si stringono con forza, mentre Nihan si volta a guardarlo, determinata e vulnerabile. «È ora che tu sappia la verità, Kemal». Lui la guarda, gli occhi intensi e fissi nei suoi, cercando di capire cosa stia cercando di dirgli. Nihan, con voce rotta dalle lacrime, sussurra «non c'è strada di ritorno quando si uccide qualcuno, Kemal». La confessione lo lascia senza parole. Cinque anni fa, mio fratello Zan ha commesso un omicidio. Le parole di Nihan pendono nell'aria come una lama affilata, e Kemal rimane immobile, incapace di reagire. L'unico suono è il vento che si sinua tra gli alberi, portando con sé un silenzio opprimente. Nihan, sempre piangendo, aggiunge «Ora sai perché sono stata costretta a sposare Emir». La voce le trema mentre parla. «Ha scoperto tutto. E ci ha messo sotto scacco. Ha minacciato di distruggere la nostra famiglia, se non lo avessi sposato». Kemal la stringe in un abbraccio protettivo, tenendola stretta a sé. La loro vicinanza è elettrica, i loro volti si avvicinano e per un attimo il mondo scompare attorno a loro. Le labbra quasi si sfiorano ma Kemal si trattiene, fissando invece profondamente gli occhi di Nihan. «Non è giusto che Emir stia minacciando i tuoi genitori, tenendo in pugno il futuro di tutta la tua famiglia», sussurra Kemal con voce ferma, stringendola ancora più forte. «Non dovevate permetterglielo». Nihan scuote la testa, il suo volto un mosaico di dolore. «Non conosci Ozan», dice con disperazione nella voce. «Non avrebbe mai sopportato la pressione, Kemal. In prigione sarebbe morto». Il vento si alza, increspando le foglie attorno a loro mentre le lacrime di Nihan scorrono senza freni. Emir lo sapeva. «Ha sfruttato la debolezza di mio fratello per manipolarci tutti». Kemal la guarda intensamente, cercando di mantenere la calma, ma la sua voce è ferma e risoluta. «Chiunque commetta un crimine va in prigione, Nihan. Nessuno può essere protetto dalla propria famiglia per sempre». Nihan però scuote la testa con frustrazione, le lacrime ancora fresche sulle guance. «Non capisci, Kemal. Ozan non è come gli altri. Non può sopportare la prigione. Lo ucciderebbe». La sua voce è carica di disperazione mentre cerca di far capire a Kemal la gravità della situazione. Kemal la guarda con compassione e cerca di convincerla. «Possiamo cambiare strada, Nihan. Possiamo tornare indietro, rimediare a tutto questo». Ma Nihan lo fissa con occhi infuocati di rabbia e dolore. «Non c'è soluzione!» esclama, la sua voce tremante di emozione. «Se te l'ho detto è solo perché tu volevi saperlo». Fa un passo indietro, la rabbia ora chiaramente dipinta sul volto. «Ozan morirebbe in prigione. E se mai lo consegnassi alla giustizia non ti perdonerei mai, Kemal. Mai». Kemal rimane senza parole mentre Nihan continua. «Questo segreto ce lo porteremo nella tomba». Senza dire altro si allontana. Kemal rimane fermo vicino al pozzo, la mente un turbine di pensieri contrastanti. Il suo sguardo si perde nell'oscurità del pozzo, cercando di trovare una soluzione tra l'eco delle parole di Nihan. Intanto, dall'altra parte della città, Tufan si trova nell'ufficio di Galip. «Non preoccuparti, Galip», dice Tufan con un sorriso rassicurante. «I testimoni cambieranno la loro versione dei fatti e diranno che hanno calunniato Emir». Galip lo guarda con un ghigno soddisfatto. «Bene, dobbiamo essere sicuri che questa storia non torni mai più a galla». Tufan annuisce con la sicurezza di chi ha tutto sotto controllo. «Sarà fatto, Galip. Emir può stare tranquillo». Tufan prosegue nel suo resoconto, con un sorriso freddo e calcolatore che si allarga sul volto. Emir aveva previsto che potessero sorgere degli imprevisti durante il suo piano, così ha già sistemato tutto nell'ufficio del commissario. Dai documenti risulta che gli uomini che hanno fatto il nome di Emir come mandante dell'aggressione a Kemal qualche mese fa erano stati licenziati e segnalati da Kosko Glu stesso per i loro comportamenti. Galip ascolta attentamente, le mani incrociate sul petto mentre un ghigno soddisfatto gli increspa le labbra. Quindi passerà come una resa dei conti tra vecchi dipendenti rancorosi. Tufan annuisce con la sicurezza di chi sa di avere tutto sotto controllo. Esattamente, Emir non sarà ritenuto responsabile di nulla. A quel punto Galip si alza dalla sua sedia, visibilmente irritato, e con voce tagliente domanda «A chi dovrò chiedere indietro il tempo che mi hanno fatto perdere. Due dei miei vecchi dipendenti, arrabbiati per essere stati licenziati, hanno osato calunniarmi». Tufan sorride con una sicurezza inquietante. «Non preoccuparti, Galip, tutto sarà risolto presto». Galip resta fermo, lo sguardo perso nella penombra, meditando su come questa nuova mossa possa assicurare il controllo di Emir sulla situazione. Infine, Kemal raggiunge Nihan, che è ancora nel bosco. Nihan solleva lo sguardo verso di lui, con gli occhi velati dalle lacrime. «Mi sono persa, Kemal. Non so più dove muovermi in mezzo a tutte queste bugie. Ho perso anche la strada di casa». Kemal le prende le mani con delicatezza e la guarda negli occhi con una tenerezza infinita. «Io sono la tua casa», le sussurra. «Raccontami tutto, Nihan. Raccontami tutto di questi cinque anni». Nihan esita per un attimo. Si conclude così l'anticipazione delle puntate di giovedì 9 e venerdì 10 maggio. «Io sono Isabella e come sempre vi mando un abbraccio». La sorpresa riguarda una puntata speciale venerdì sera dopo Terra Amara. Sieti contenti? Ma non perdetevi i prossimi video perché nelle prossime puntate Zainep scoprirà di essere stata solo una pedina nelle mani di Emir. Se volete vedere altri video scrivete qui sotto «Sì, voglio il video».